eccoci grazie ancora a tutte e a tutti continuiamo il ciclo di lezioni nella scuola interdisciplinare cosmopolita che come l'acqua stiamo promuovendo e vi ricordo che tutte le lezioni sono reperibili sul sito di transform italia e do subito la parola a piero per presentare la lezione di oggi prego a te piero grazie roberto buonasera a tutte a tutti e un grazie in particolare a marianna filandri che ha accettato di buon grado di svolgere la lezione di questa sera su su un tema che dirò fra poco voglio ricordare che la filandri è docente di sociologia delle disuguaglianze economiche e sociali dell'università di torino e direi da sempre studi alcuni dei più importanti problemi e della società devastata dal capitalismo predatorio del nostro tempo e dal pensiero neoliberista vale a dire le disuguaglianze sociali la violenza sulle donne il problema della casa la scuola la mobilità sociale il mercato del lavoro è autrice di numerosissimi saggi articoli anche su riviste internazionali e di vari capitoli i libri scritti o curati da altri studi no c'è del gran liquido un'interferenza ha curato insieme a nicola negro restare città medio per il mulino nel 2010 poi nel 2013 per franco angeli editoria ha curato generazioni al lavoro differenze disuguaglianze e giustizia distributiva più tardi insieme a manuela olagnero e a giovanni semi ha curato casa dolce casa italia un paese di proprietari sempre il mulino 2020 collabora al quotidiano domani e infine ha pubblicato nel l'anno scorso nel 2022 lavorare non basta per la terza vorrei mostrare qui il libro si tratta di un denso e prezioso libretto che spiega la situazione paradossale del del fatto che tanto come è noto almeno a chi segue diciamo le vicende del nostro tempo e del nostro paese paradosso che moltissimi lavoratori rimangono povero e c'è stata una fase storica nella quale lavorare era il presupposto per il benessere sociale e per l'emancipazione civile e culturale delle persone ora non è più questo allora io voglio ricordare per fare alcune considerazioni di premessa alla lezione che terrà mariana filandri che avendo io chiesto a lei di fornirmi un titolo della sua lezione lei mi aveva suggerito lavoro povertà ricchezza ottimo titolo che rimane a cui però io ho aggiunto privata cioè ricchezza privata perché ricchezza privata perché è poco noto che il nostro paese è sotto il profilo della finanza familiare uno dei più ricchi al mondo la la statistica del bollettino periodico della banca d'italia sulla ricchezza finanziaria delle famiglie italiane per il 2022 segnava 5 mila miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie italiane pensate che il nostro pile si aggira su 1600 miliardi annoi cioè noi abbiamo una ricchezza immobilizzata immobilizzata nelle banche che non si trasforma si trasforma in investimenti pubblici in investimenti sociali in dinamismo della vita del nostro paese per cui assistiamo al paradosso storico in un paese in cui la popolazione non cresce anzi diminuisce e la ricchezza aumenta perché il pile annualmente sia pure di poco cresce eppure milioni milioni di individui e indietreggiano sul piano sul piano sociale è un paese distorto che ha avuto la sventura di essere governato da un ceto politico tra i peggiori della storia repubblicana che ha badato alla propria sopravvivenza di ceto perché c'è un problema gigantesco di redistribuzione della ricchezza nel nostro nel nostro paese che non viene non viene diciamo risolto per via che per ragioni elettorali i vari partiti politici a cominciare da quello che è stato definito in maniera in maniera veramente improprio un partito di sinistra cioè il partito democratico per ragioni elettorali cioè per ragione di consenso da parte dei ceti ambienti e dei ceti medio alti non ha mai diciamo avviato una riforma una riforma fiscale necessaria per riequilibrare la ricchezza e senza senza considerare le altre misure di diciamo di livellamento delle disuguaglianze che si potrebbero avviare soprattutto sul piano dei servizi degli investimenti nella scuola nella casa eccetera ma non voglio anticipare i temi che che marianna conosce meglio di me quindi le do subito la parola prego grazie grazie molte dell'invito mi fa molto piacere partecipare a questa scuola e riprenderò un po il commento che ha fatto piero bevilacqua poi nelle conclusioni della lezione di oggi magari su questo possiamo fare anche una piccola riflessione insieme ehm io ho preparato qualche slide eh che condivido quindi ecco vi chiederei solo di darmi conferma che si vede posso ok benissimo benissimo allora eh prima di entrare proprio nel merito della lezione su appunto il lavoro la povertà e la ricchezza privata io vi ricordo brevemente qualche concetto definitorio nel senso che noi usiamo proprio nel linguaggio di tutti i giorni leggiamo sui quotidiani ne discutiamo le parole disuguaglianza povertà lavoro eccetera innanzitutto partiamo da disuguaglianza perché questo è come appunto è stato detto il framework concettuale la cornice concettuale di tutte le mie riflessioni quello che io vi presento qui è l'idea eh di studiare il lavoro e la povertà come o è la ricchezza privata come problemi di disuguaglianza che cos'è la disuguaglianza lo sappiamo tutti ma mettiamolo a fuoco la disuguaglianza è la diversa distribuzione delle risorse cioè non è una differenza ci sono delle situazioni di differenza in cui una persona una cosa una persona può avere un'altra e appunto eh l'equazione che noi abbiamo in mente è uguale o diverso qui si tratta di maggiore o minore la disuguaglianza presuppone un ordine gerarchico cioè qualcuno ha di più e qualcuno ha di meno la diversa distribuzione delle risorse non è diversa ma è maggiore o minore qualcuno vive meglio qualcuno vive peggio la disuguaglianza esiste solo in un confronto e guardate che questo è un dato importante perché perché vuol dire che quando parliamo di disuguaglianza non parliamo mai della condizione di un singolo di una non riguarda un singola famiglia un singolo individuo un singolo paese riguarda l'intero insieme dei paesi insieme delle famiglie insieme degli individui e questo è cruciale perché riguarda tutti quando si parla di disuguaglianza siamo tutti in qualche modo chiamati in causa questo ordine gerarchico della disuguaglianza che cosa è legato fatemi dire ancora questo è legato al fatto che il fatto di avere di più o di meno non è neutro è legato alle mie condizioni di vita e alle mie opportunità di vita se io ho più denari io vivo meglio sto meglio se io ho una casa più grande probabilmente sarò più in salute avrò meno rischio di farmi male di avere un incidente domestico tanto per dire per fare un esempio quindi questa diversa distribuzione delle risorse ha delle conseguenze dirette sul mio benessere sul mio status sulla mia serenità sulla mia condizione fisica questo discorso della disuguaglianza è legato strettamente evidentemente a quello della povertà però guardate che molte volte nei quotidiani nazionali noi vediamo l'utilizzo di questi termini in maniera un po' impropria un po' leggera sono aumentate le disuguaglianze la povertà sì potrebbe essere e magari anche vero ma ce lo dicono i dati io lo diciamo perché tanto quando c'è la disuguaglianza c'è anche la povertà e se aumenta la povertà sicuramente aumenta anche la disuguaglianza sono discorsi leggermente diversi perché la povertà in realtà è una condizione individuale io sono povera indipendentemente dalla condizione degli altri posso esserlo povera indipendentemente dalla condizione degli altri ora io qui vi do delle definizioni che mi sembrano le più accurate ovviamente su ognuna delle cose che io vi dico sappiate che dietro c'è anche molto dibattito quindi possono esserci anche altre posizioni anche studiosi che magari pensano io cercherò di essere il più completa possibile ma magari ci sono studiosi che pensano eh alla povertà in termini di deprivazione relativa cioè l'avere meno degli altri e quindi in questo caso la povertà è legata a una situazione non solo mia individuale ma una situazione che riguarda ehm riguarda un insieme di individui soggetti familiari nella slide che vi mostro voi vedete una situazione di disuguaglianza se confrontate le due fotografie da una parte abbiamo una situazione di grande ricchezza a fianco di una situazione di povertà nella seconda immagine quella con la torre eh di 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 metallo che si vede in mezzo alla fotografia vedete che c'è solo povertà quello è un paese dove se volete se noi prendiamo solo quel paese lì noi potenzialmente potremmo trovare un bassissimo livello di disuguaglianza sono tutti poveri sono tutti uguali tutti poveri ma la povertà è molto elevata quindi quando parliamo di disuguaglianza ci riferiamo a una diversa distribuzione delle risorse quando parliamo di povertà ci riferiamo al fatto che le persone non abbiano un abbastanza per vivere per stare bene sulla povertà vi do qualche definizione tra tra poco ritorno ehm in questa slide spero di spiegarvelo meglio la disuguaglianza il fatto che ci siano dei ricchi e dei poveri solitamente pochi ricchi e molti più poveri e poi c'è anche una classe media a seconda delle società e a seconda anche dei beni considerati possiamo avere un'ampia classe media una classe media che è un po' tirata eh insomma ci sono eh società differenti la povertà invece è il fatto che siano tutti poveri è una condizione che non è in confronto ad altre mh situazioni eh in questo ehm lezione di oggi vi parlo di lavoro e povertà poi arriveremo alla ricchezza perché vi parlo di lavoro perché qual è il mezzo principale per uscire da una condizione di povertà se ci pensate se incontrate una persona che vi dice guarda ho delle gravi difficoltà economiche quindi se sono povero ho dei problemi voi la prima cosa che pensate senza sapere nient'altro di questa persona è è benissimo trovo un lavoro troviamogli un lavoro vediamo che lavoro fa il lavoro perché il lavoro è la prima forma di protezione dalla povertà benissimo questa è una cartina dell'Italia ogni pallino rappresenta un comune io oggi non entro nel merito delle differenze territoriali delle disuguaglianze territoriali tra l'altro so che avete avuto eh dei relatori eh importanti insomma è un tema che vi sta a cuore ma quello che vi faccio vedere è che c'è una correlazione molto forte tra che cosa tra la disoccupazione e il disagio economico nella prima cartina che voi vedete sulla sinistra vedete che il rosso rappresenta le zone ad alto tasso di disoccupazione e il blu le zone a basso tasso di disoccupazione nella cartina dell'Italia di destra vedete il disagio economico il rosso dove è molto alto e in blu dove più basso quindi che cosa vedete vedete che nelle zone che riguardano prevalentemente il sul centro e sud Italia le eh il disagio economico è più elevato così come la disoccupazione nel nord Italia vediamo che la situazione è più favorevole ci sono c'è meno disoccupazione e meno disagio economico con eh l'area piemontese dove sono io un pochino più depressa nel nel rispetto al resto delle altre regioni però sostanzialmente vedete che c'è una correlazione cioè voi vedete che questo discorso funziona bene dove c'è più lavoro c'è meno povertà meno disagio economico e quindi siamo come dire eh confortati nel fatto che il lavoro ci aiuta a uscire dalla povertà eh tuttavia il lavoro non è il lavoro e basta ma ci sono vari formi di lavoro ci sono lavori qualificati e molti lavori non qualificati ci sono lavoratori e ci sono lavori manuali e lavori non manuali lavori che sono pagati di più lavori che sono pagati di meno quindi quando parliamo di lavoro dobbiamo sempre avere in mente una certa eterogeneità il lavoro non è per tutti lo stesso non siamo più in quell'epoca fordista che tanto ci rassicurava in cui si lavora tutti full time full IR tempo pieno tutto l'anno dal lunedì al venerdì eh chi con un lavoro più qualificato chi meno qualificato magari alcuni manuali alcuni esecutivi ma sostanzialmente come dire avevamo una condivisione anche delle modalità di lavoro più diffuse in questo caso oggi è molto più diffuse modalità di lavoro differenze differenti competenze differenti e vedremo anche un po' di retribuzioni differenti e sempre di più oggi sentiamo parlare di in work poverty ed ecco qui povertà da lavoro ci mettiamo insieme povertà da lavoro e la prima cosa che ci viene in mente dopo anche immagino un'introduzione che vi ho fatto io di parlare insomma di del lavoro come forma di protezione della povertà e di considerare questa espressione uno simoro cioè lavoratore povero no facciamo un passo indietro se sono lavoratore non sono povero giusto i poveri sono quelli che non lavorano sono i disoccupati sono altri io sono una lavoratrice io non sono povera in realtà quasi tutti poveri lavorano nel mondo quando noi pensiamo alla dati sulla diffusione della povertà nel mondo la maggioranza dei poveri lavora ma nessuno di noi li chiama lavoratori poveri quindi finché noi un po' ci scandalizziamo comunque un po' come dire ci scatta qualcosa per cui l'espressione lavoratore povero in qualche modo ci disturba è un buon segno perché noi pensiamo che il lavoro non debba portare alla condizione di povertà e infatti questo termine molto diffuso nei paesi dove ci sono estesi sistemi di welfare dove sostanzialmente l'idea che il lavoro garantisca insomma un benessere minimo a tutti quanti quindi quando invece pensiamo a paesi molto poveri dove la maggioranza della popolazione lavora ma è povera in questo caso la distinzione lavoratore povero o povero non lavoratore non c'è e quindi questo è un dato che come dire vi 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 do per cercare anche di vedere questo fenomeno molto drammatico ma eh come dire parliamone perché è anche un qualcosa che non dobbiamo dare per scontato eh qualche dato di quanto è diffuso questo fenomeno ho preso i dati più recenti ho preso due grafici di Eurostat eh ovviamente i dati degli istituti di statistica nazionali europei sono i più affidabili e vedete nel grafico di destra eh la percentuale di eh famiglie ehm che sono povere in totale vedete che l'Italia è in questo caso eh venticinque per cento quindi comunque una mh persona su quattro scusate eh è a rischio di esclusione adesso Eurostat è passato dal parlare di povertà a rischio di povertà eh se noi guardiamo il grafico di destra vedete nella freccia l'Italia la percentuale di lavoratori poveri è del dodici per cento quindi vedete che è comunque molto elevata è marcata questa questo fenomeno più di un lavoratore su dieci nel nostro paese oggi è povero pur essendo occupato quindi è tanto se pensate in una società dove ci sono eh cinquanta dipendenti sostanzialmente ne abbiamo eh sette che sono poveri quindi comunque un numero elevato ehm come mai questi lavoratori sono sono poveri? Allora dobbiamo definire la povertà da lavoro e guardate che questo è una cosa non facile perché perché eh bisogna definire da una parte la povertà di cui vi ho accenato qualcosa e adesso vi ridico qualcos'altro e dall'altro il lavoro sono due ambiti che devono essere definiti in maniera univoca c'è molto dibattito adesso un po' c'è stata una convergenza ma nei primi anni dell'utilizzo degli studi di questo fenomeno gli studiosi si sbizzarrivano alcuni pensavano che il lavoratore povero fosse sono un un lavoratore a basso salario altri proponevano altre definizioni più articolate poi adesso c'è un po' di convergenza io adesso vi propongo quella della definizione più utilizzata che è anche la definizione adottata da Istat e da Eurostat. Allora prima di tutto viene bisogna definire chi è lavoratore cioè chi è un lavoratore e va bene chi è un lavoratore vuol dire chi è un potenziale lavoratore ma su questo prendiamo la popolazione in età da lavoro quindi diciotto sessantaquattro anni e nei potenziali lavoratori definiamo chi è lavorato che chi è lavoratore prendendo la definizione di lavoro come impiego remunerato quindi tutto quello che non è l'idea di produrre un bene un servizio che sia riconosciuto e che sia remunerato non è lavoro tanto per intenderci il lavoro domestico non è remunerato e non è riconosciuto noi non lo consideriamo lavoro quindi un lavoratore povero è una persona che ha un impiego remunerato poi dobbiamo definire per quanto tempo perché ovviamente la condizione di lavoro povero noi la possiamo definire e misurare al 31 12 di un anno nel corso di un anno solitamente si prende nel corso dell'anno quindi al 31 12 quanti sono i lavoratori avendo preso la condizione dell'anno perché questo guardate che queste cose fanno cambiare i numeri notevolmente quindi ci sono anche persone come dire che possono un po giocare con la statistica per portare avanti tesi di un tipo piuttosto che di un altro allora cosa vuol dire vuol dire che se io prendo una definizione di lavoratore solo interni di lavoratore occupato come vi dicevo ad esempio prima tempo pieno e tutto l'anno beh i lavoratori poveri sono molto pochi io prendo il lavoratore standard quello diffuso nel nostro immaginario eh del dopoguerra e beh i lavoratori poveri sono pochi però se io invece includo nella definizione di lavoro più persone e quindi ad esempio prendo il lavoratore saltuario il lavoratore che ha la stagionale il lavoratore part time allora il numero di lavoratori poveri tenderà magari ad aumentare però se uno ha lavorato tre giorni in un anno è un lavoratore forse no quindi questo è importante da definire come si fa solitamente si considera il criterio dei minimo sei mesi quindi eurosat considera dai sette mesi sei mesi in su se io ho lavorato almeno sei mesi in un anno sono un lavoratore quindi la definizione che noi oggi diamo di lavoro povero quando io vi parlo di un lavoratore su dieci non pensate a chi lo studente che lavora solo i tre mesi all'anno tanto per intenderci stiamo parlando di persone che su dodici mesi hanno speso più di sei mesi con un impiego remunerato molti sono anche lavoratori a tempo pieno ehm questo per evitargli stromettere troppi lavoratori dalla nostra definizione eh secondo eh ambito da definire è quello della povertà allora come vi dicevo sulla povertà ci sono molti pareri molti studi la povertà è molto difficile da definire io faccio sempre questo esercizio con i miei studenti e dico chi è povero eh come dire la sensazione la prima immagine che ci viene in mente dove pensato un povero è il senza fissa dimora e infatti il senza fissa dimora è povero questo è correttissimo però una condizione di povertà estrema estrema l'istat oggi ci dice che ci sono eh più di due milioni di famiglie povere sono mica due milioni di senza fissa dimora no sono famiglie povere in che termini in che termini in questo caso istat ci parla di una povertà assoluta allora vediamo un attimo di definire due concetti importanti secondo me una lezione su povertà e lavoro e ricchezza appunto privata che vedremo più avanti deve avere almeno o eh fornire almeno un'idea di differenza tra la povertà assoluta e la povertà relativa sono due forme di misura di misura due approcci allo studio della povertà che vengono dati da istat vengono portati eh vengono divulgati i dati tra l'altro è anche se posso un fiore all'occhiello del nostro paese perché noi siamo uno dei pochissimi paesi che misura la povertà sia in termini assoluti sia in termini relativi la maggioranza dei paesi misura la povertà solo in termini relativi eh le eh gli Stati Uniti la misurano in termini assoluti con una misura assolutamente eh grezza noi abbiamo una misura molto molto eh sofisticata quindi come dire vi do due parole su questo la povertà relativa a a che fare con quell'idea che vi accennavo poco fa della deprivazione relativa avere meno degli altri quindi in realtà la povertà relativa è in qualche modo una misura intrinseca di disuguaglianza ricordate quello che vi ho detto all'inizio la disuguaglianza e il confronto la povertà è singola ma la povertà relativa è avere meno degli altri che cosa significa facciamo due casi eh un po' come dire ehm un po' assurdi in Lussemburgo non c'è neanche un povero ma c'è una famiglia che ha molto meno degli altri beh quella famiglia è povera in termini relativa pur non essendo pur non mancandogli nulla non avendo problemi economici problemi finanziari ovviamente non normalmente non è così chi è povero in termini relativi ha meno degli altri e solitamente gli mancano anche delle cose quando io vi ho detto prima in Italia ci sono due milioni di famiglie povere io però facevo riferimento alla povertà assoluta la povertà assoluta è il non avere abbastanza denari per permettersi i beni e i servizi ritenuti essenziali per vivere e per sopravvivere di cosa vuol dire uno standard di vita minimo accettabile questa è la definizione l'istat costruisce un paniere di beni alimentari cosa mi serve per mangiare e essere in salute eh cosa quanto mi serve per avere un'abitazione in termini economici per essere riscaldata per avere un'abitazione riscaldata quanto mi serve per avere dei servizi minimi come muovermi sul territorio comunicare oggi è avere un cellulare evidentemente e quindi noi abbiamo costruito l'isat ha costruito questo paniere di beni ha calcolato il prezzo di questo paniere di beni tra l'altro con delle forme come vi dicevo prima veramente molto sofisticate i beni il prezzo dei beni dei paniere considera i costi della zona della macro area di residenza dove si vive nord centro e sud Italia ma anche area urbana o area metropolitana e considera anche il fatto che le persone con difficoltà economiche molto spesso comprano nella grande distribuzione ai prezzi più convenienti quindi si considerano i prezzi dell'hard discount chi ha difficoltà economiche tendenzialmente cercherà di fare attenzione a quanto costano i prodotti quindi i prezzi del paniere sono prezzi che si pensa siano di modelli di consumo delle famiglie povere questo costo è stato anche controllato con l'indagine dei consumi dell'istat quindi è stato calibrato come vi dicevo un lavoro molto grande quindi non è una sovrastima della povertà al contrario secondo questo paniere le persone per sopravvivere scusate le persone che sono in pover le famiglie che sono in povertà assoluta sono me sono oltre due milioni quindi non abbiamo due milioni di famiglie che non hanno il reddito sufficiente per avere uno standard di vita ritenuto accettabile questo è assoluto appunto non è relativo alla condizione degli altri noi potremmo avere la povertà relativa cioè avere famiglie che hanno meno degli altri ma non avere la povertà assoluta cioè l'ideale è comunque una società dove la povertà assoluta non c'è in generale la povertà relativa è più ampia della povertà assoluta e questo è un dato positivo perché perché vuol dire che comunque sono un po meno le famiglie a cui manca il necessario per sopravvivere tuttavia è un dato molto rilevante i due milioni di famiglie che vi dicevo prima questa soglia di povertà che viene utilizzata è a livello familiare quindi la famiglia insieme dei redditi di tutta la famiglia considera il necessario per vivere ora ovviamente tutti i redditi sono tenuti insieme tramite una scala di equivalenza quindi si considera quanti sono le famiglie quanto ha bisogno di vivere un singolo una famiglia di due persone un genitore con un figlio una coppia con un figlio eccetera eccetera quindi tutto questo calcolo noi definiamo la povertà che cos'è la povertà da lavoro la povertà da lavoro è però sempre come dirà sempre un problema in più perché ha un problema in più perché comunque può essere da un lato perché è da un lato individuale la condizione di lavoro è individuale giusto ma la condizione di povertà è familiare perché se no se io non lavoro sono povera per definizione ma se io come dire sono la moglie del presidente del senato e magari non lavoro sono povera lo stesso oppure no forse no perché perché si considera il reddito familiare e quindi la condizione dei redditi è familiare ma la condizione di lavoro individuale quindi quando si parla di povertà da lavoro si considera la condizione da lavoro individuale e di reddito familiare sono lavoratori poveri coloro che vivono in coloro che sono occupati e vivono in famiglie che hanno un reddito insieme che non arriva alla soglia di povertà assoluta quindi la condizione di povertà è familiare la condizione di lavoro è individuale quindi quali sono le dimensioni che portano alla fenomeno del lavoro povero sono da un lato le condizioni del mercato del lavoro dall'altro le condizioni della famiglia quali sono gli elementi che portano che sono di maggior rischio per la povertà di una famiglia ad esempio avere tanti componenti a carico le famiglie numerose che ha tanti figli in Italia un fenomeno non molto diffuso anzi abbiamo un problema grosso demografico addirittura appunto come dire un'emergenza ormai si parla di eh di di relativo al fatto che non ci siano nati tuttavia quindi la ve come dire avere tanti componenti a carico non è l'unica di dimensione che è dirimente perché c'è anche una dimensione che è legata alla modalità di occupazione quindi quanto sono occupato quanto sono pagato e eh se sono occupato in maniera continuativa quindi in questo senso il lavoratore povero non è un lavoratore a basso salario perché tiene conto della dimensione familiare quindi tiene conto di tutti i redditi sostanzialmente che sono presenti nella famiglia i redditi del lavoro i redditi finanziari i redditi da patrimonio e altri possiamo dire che sono quattro le cause della povertà da lavoro uno si lavora poco si lavora poco vuol dire da una parte in termini di impegno settimanale no full time part time tempo pieno tempo parziale oppure e e questa come dire è la prima causa perché perché se io lavoro a tempo parziale il mio reddito da lavoro finale sarà più basso giusto e uno può dire vabbè però ci sono stato un sacco di anche dibattiti su incentiviamo di più il lavoro part time perché questa è una misura di conciliazione quindi poi in realtà si è contenti di lavorare un po' meno per sapere se questa è una buona misura dobbiamo valutare quanto è diffuso il part time involontario cioè la condizione di impegno nel mercato del lavoro parziale ma involontario ecco per gli uomini che si trovano in questa condizione praticamente tutti tutti quanti la totalità delle degli uomini che a tempo parziale quasi la quasi totalità dice che vorrebbe essere a tempo pieno ma in realtà questo è diffuso anche molto per le donne perché è diffuso anche per le donne il part time involontario perché il part time è volontario ed è una misura di conciliazione nella misura in cui è congruente una mia esigenza organizzativa ad esempio se io un part time come donna che dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 magari va anche bene ma se un part time che va dalle 15 alle 19 allora magari devo anche pagare una babysitter e quindi allora meglio lavorare a tempo pieno così un pochino più di soldi quindi in realtà non è sempre detto che il part time abbia un valore positivo e comunque è uno dei fattori che influenza la probabilità di essere lavoratori poveri su questo influenza sempre nel poco lavoro il fatto che è come dire non si lavori in maniera continuativa e qui salto e passo all'instabilità perché sono legati questi due concetti il poco lavoro può essere il fatto che io abbia dei lavori che non mi garantiscono 12 mesi di impegno all'anno l'instabilità lavorativa non è detto che sia il poco lavoro attenzione l'instabilità lavorativa vuol dire tecnicamente che io non ho un contratto a tempo indeterminato quindi non sono stabilmente occupato ma io posso essere occupato in maniera continuativa per due anni sono però instabile nella misura cui il contratto finisce il poco lavoro c'è quando io alterno magari periodi di occupazione disoccupazione oppure io lavoro per nove mesi e poi per tre mesi non lavoro in realtà ad esempio nel caso degli insegnanti è molto diffuso su questo in realtà ovviamente poco lavoro e stabilità sono molto legati l'instabilità è legata anche una situazione di benessere che non è solo in termini di povertà oggettiva cioè di quanto io guadagno ma anche una situazione di malessere più generale la seconda causa nell'elenco che è la terza causa di cui vi parlo della povertà lavoro è il basso salario beh questo è veramente eh diffuso che cosa vuol dire vuol dire essere pagati poco all'ora sostanzialmente il basso salario non è su la mia busta paga al totale ma è quanto io sono pagato allora pensate alla rilevanza del dibattito sul salario minimo noi abbiamo avuto questa direttiva europea che ci ha come dire è raccomandato di adeguare i salari e quindi di pagare di più lavoratori tuttavia oggi nel nostro paese ed è uno dei pochi paesi in Europa non c'è una normativa sul salario minimo legale cioè sotto l'orario sotto il quale le imprese non possono eh pagare un lavoratore si rimanda ai contratti collettivi nazionali che sono più di ottocento sono tantissimi e alcuni prevedono una paga oraria molto molto bassa il caso sempre citato più diffuso è il settore dei multiservizi in cui i lavoratori sono pagati cinque euro e quaranta allora la proposta più recente discussa ehm sul in parlamento sul salario minimo era di nove euro allora quindi veramente molto più bassa eh questa è ovviamente una causa fondamentale di lavoro povero che porta ad avere dei redditi da lavoro molto bassi l'intensità di lavoro che è l'ultima causa che vedete nell'elenco è invece legata al fatto di eh avere pochi componenti che lavorano se volete nella famiglia o tanti membri a carico tanti componenti a carico e il concetto che in inglese si chiama work intensity quindi la mia intensità di lavoro è bassa l'esempio più tipico della povertà da lavoro è il fatto che in una coppia lavori uno solo dei due una coppia lavora l'uomo la donna sta a casa il reddito da lavoro non è sufficiente per uscire dalla povertà questo è un problema magari non legato al fatto che si lavori poco non legato magari al fatto che salario è basso non legato al fatto che il contratto di lavoro sia instabile ma è legato al fatto che solo uno dei due lavori in questo caso quindi è una dimensione legata non tanto al mercato del lavoro quanto alla al fatto che nel nel nucleo non tutti sono eh occupati potrebbe essere anche e molte volte lo è legato al mercato del lavoro perché molto spesso chi non è occupato non è che lo fa di nuovo per scelta ma lo fa perché è spinto a non essere occupato non c'è abbastanza lavoro per tutti in altri termini ehm su questo vi dico che molto spesso sono le donne e c'è un paradosso di genere questo secondo me è interessante anche come dire sul fatto che oggi il due marzo tra qualche giorno c'è l'otto marzo ci saranno molte riflessioni su eh la condizione della donna ci saranno anche dei dibattiti io per esempio ne partecipo uno su eh la le donne che sono più svantaggiate nel mercato del lavoro e quant'altro ed è così le donne sono con più probabilità degli uomini pagate eh poco quindi hanno un basso salario con più probabilità rispetto agli uomini sono hanno contratti di lavoro discontinui la pandemia ce l'ha mostrato sono le donne che più degli uomini non sono state confermate hanno hanno perso il lavoro e sono anche eh con più eh frequenza ehm assunte in eh disoccupate quindi hanno come dire una percentuale di occupazione più bassa tuttavia se noi utilizziamo il criterio del lavoro povero cioè dell'essere working poor le donne hanno meno probabilità degli uomini di essere working poor vabbè allora c'è una dimensione dove le donne non stanno così male no ecco è solo una ragione pensateci logica perché perché molto spesso quando le donne sono occupate sono il secondo percettore di reddito nel nucleo ed essendo il secondo percettore di reddito nel nucleo rendono il nucleo forte dal punto di vista economico lavorare in due è un fattore è un fattore protettivo della povertà da lavoro della povertà in genere lavorare in due vuol dire avere delle famiglie a doppio reddito che sono robuste sono robuste di fronte alla probabilità di avere forme di disagio di deprivazione eccetera quindi per le donne in realtà l'occupazione è un fattore di protezione per tutta la famiglia e quindi da questo punto di vista le donne sono più avvantaggiate nella probabilità di essere working poor ma tuttavia lo sono meno per quanto riguarda il mercato del lavoro in generale vi do ancora un dato sul settore del lavoro povero perché perché voi dite vabbè però il lavoro povero riguarda poi alla fine insomma diciamocelo che cosa degli imprenditori spregiudicati che pagano poco i lavoratori perché li tengono a tempo determinato gli danno poche euro all'ora li assumono solo quando hanno bisogno ecco no innanzitutto io ci tengo a dire che come dire come esistono imprenditori che saranno anche spregiudicati esistono anche imprenditori che pagano adeguatamente i lavoratori e così come ci saranno lavoratori eh che fanno il loro lavoro benissimo altri che lo fanno male quindi non non generalizziamo quello che però vi voglio introdurre qui è una dimensione sul fatto che molto spesso il datore di lavoro di un lavoratore povero non è un imprenditore esistono imprenditori nel nostro paese noi lo sappiamo che competono non tramite innovazione ma tramite bassi salari e questo riguarda soprattutto le occupazioni poco qualificate ma in realtà eh quello che io vi racconto adesso è che molte volte il datore di lavoro che è il datore di lavoro di lavoratori poveri è lo Stato è l'ente pubblico perché è perché noi abbiamo avuto questa grande crisi finanziaria del duemila e otto al seguito della quale c'è stato questo grosso blocco delle assunzioni non si poteva più assumere le amministrazioni pubbliche e avevano persone che andavano in pensione e non venivano sostituite con l'idea di razionalizzare la spesa però anche con l'idea di razionalizzare i servizi ma alcuni servizi non sarebbero stati più potuti essere erogati e quindi che cosa si è fatta? L'amministrazione pubblica con l'obbligo di erogare i servizi ha esternalizzato dei eh servizi e quindi i lavoratori che forniscono certi servizi nelle amministrazioni pubbliche non sono dipendenti alle amministrazioni pubbliche ma sono dipendenti di altre società spesso cooperative. Vi faccio un esempio, l'esempio delle università che esternalizza tutti i servizi di portinariato alle cooperative ma esistono anche nei musei, esistono in molte altre realtà, nelle biblioteche. Cosa succede? L'università, facciamo l'esempio dell'università, prima assumeva dei lavoratori e questi lavoratori li pagava dieci, ok? Ogni lavoratore costava l'università dieci. Ora l'università prende un servizio da una cooperativa e voi dite vabbè pagherà undici, pagherà undici perché perché devi pagare il lavoratore e poi dare anche qualcosa alla cooperativa. No, l'università paga nove. Perché paga nove? Perché in realtà l'università paga solo per il servizio, quindi quando il lavoratore è in ferie, l'università non paga, lo paga la cooperativa, quindi l'università paga solo per il servizio che ha. Ad agosto, faccio per dire, non è questo caso, ma l'università è chiusa, io non ho bisogno di servizio, io non lo pago il servizio, gli faccio un bando per undici mesi e quindi mi costa nove. Allora voi dite, quindi la cooperativa come fa? Va in perdita? No, la cooperativa guadagna uno e paga il lavoratore otto. La cooperativa guadagna, prende nove dall'università, uno lo tiene e otto lo dà il lavoratore. E come fa a farlo la cooperativa? Lo fa perché paga otto il lavoratore. Chi è che perde da questo meccanismo? Il lavoratore, che anziché guadagnare dieci, guadagna otto. Il servizio viene comunque erogato. C'è un intermediario che guadagna uno, ma chi è che eroga il servizio adesso e a tutti gli effetti lavori in un'amministrazione pubblica guadagna otto anziché dieci e ha molta probabilità di essere un lavoratore povero. A questo lavoratore si applica un contratto collettivo nazionale che gli consente di essere pagato molto meno. E a volte esistono casi diffusi di lavoratori dipendenti diretti dall'amministrazione pubblica e dipendenti da una cooperativa che offre il servizio che fanno lo stesso identico lavoro con due condizioni e due salari completamente diversi. Quindi questo, come dire, è uno dei meccanismi attraverso quali il lavoro povero si è diffuso molto nel nostro paese e meriterebbe ovviamente un certo grado di intervento. È un problema dei lavoratori. È un problema dei lavoratori che questo è un grafico che vi spiego un po' velocemente, poi vado avanti. È un problema solo dei lavoratori, ma in realtà più o meno. Perché? Perché questo grafico vi fa vedere la probabilità di sentirsi poveri. Questa è un'altra forma di povertà, la povertà soggettiva. La probabilità di sentirsi poveri significa che io, indipendentemente dal mio reddito, ho delle difficoltà. Sento di essere povero, faccio fatica ad arrivare a fine mese. La linea che vedete inclinata in generale vi fa vedere che all'aumentare del reddito, quindi queste sono le persone più ricche, queste sono le persone non povere, questi sono i vulnerabili, qui abbiamo i poveri, qui abbiamo i gravemente poveri, diminuisce la probabilità di sentirsi poveri. Benissimo, non niente di stupefacente. All'aumentare del reddito diminuisce la probabilità di sentirsi poveri. Che cosa vi fa vedere però questo grafico? Vi fa vedere che a parità di reddito avere un lavoro instabile aumenta per tutti i livelli di reddito la probabilità di sentirsi poveri. Vedete le linee tratteggiate? Le linee tratteggiate sono la percentuale di reddito del lavoro che arriva nei nuclei da lavoro a tempo determinato, che quindi è instabile. Le persone con i redditi più precari, a parità di reddito, si sentono più povere. Quindi se io guadagno mille euro e Piero che ci ospita stasera ne guadagna mille, ma io sono a tempo determinato e lui a tempo indeterminato, io ho molta probabilità di dire che ho difficoltà economiche rispetto a lui. Ma voi dite oggettivamente però abbiamo lo stesso reddito, questo non è un vero problema per le politiche, è un problema molto grande per le politiche. Perché quando io mi sento povera, io riduco i miei consumi, perché sono avversa al rischio e tenderò a spendere di meno. E questo è un problema molto grosso, perché se io spendo di meno, perché mi sento povera, ho paura di non arrivare a fine mese, penso che, come dire, non so qual è il futuro, io riduco quelli che sono i miei modelli di consumo e quindi non investirò in una serie di beni cui magari Piero investe e lui farà un abbonamento in palestra che io non farò sostanzialmente. E questo, come dire, è un costo che ha poi tutta la collettività. E su questo concludo la prima parte, introduco la seconda parte che è molto più veloce, quindi vi rassicuro che sono comunque non troppo distante dall'arrivo, sulla ricchezza. Perché parliamo di povertà, lavoro e ricchezza. Ma perché parliamo di ricchezza parlando di lavoro? È un po', come dire, uno può dire, un po' bizzarro, un po' giusto a posto in questo discorso. No, perché noi stiamo parlando di che cosa? Delle disuguaglianze. Il nostro quadro concettuale è quello delle disuguaglianze e quindi abbiamo detto, vabbè, esiste la disuguaglianza che è collegata in qualche modo alla povertà, anche se sono condizioni diverse, la povertà è legata, può essere legata al lavoro e la ricchezza, beh, la ricchezza è frutto del lavoro. La ricchezza è frutto del fatto che io mi sono dato da fare molto, mi sono data da fare molto e ho risparmiato e sono in qualche modo arrivata a essere ricca. L'idea della ricchezza come frutto del lavoro. In realtà la grande forma di ricchezza arriva non tanto dai risparmi e quindi frutto del lavoro, quanto dall'eredità, adorazioni. E qui torniamo all'idea delle disuguaglianze. La ricchezza arriva molto più dal patrimonio dei miei genitori e dei miei nonni che non dal mio impegno nel mercato del lavoro. Perché? Perché la ricchezza genera da sola altra ricchezza. Esempio, io ho una seconda casa in una città, Milano, che affitto. Affitto a una famiglia, degli studenti, a una piattaforma, quello che volete. Non faccio nulla, l'affitto. Prendo tutti i mesi l'affitto. Questa è una rendita, è la rendita del mio patrimonio. Il mio immobile è una forma della mia ricchezza, è un'attività reale, un patrimonio in questo caso immobiliare. L'affitto che io prendo è una rendita e questo mi genera dei denari che vanno, come dire, a incrementare la mia ricchezza. Ora, perché è interessante, parlando del lavoro, vedere i meccanismi attraverso i quali io accumulo ricchezza? Perché la ricchezza oggi nel nostro paese ha una tassazione che è con la cedolare secca del 21%, che è meno della metà della tassazione dei rentiti da lavoro. Quindi io ogni giorno vado a lavorare, produco un bene, un servizio riconosciuto e sono pagato, certo, ma su quell'attività lì che ha dei costi per me di fatica, di impegno, ho una tassazione di oltre il 40%, ben oltre il 40% sulla mia rendita. Quindi sul fatto che il mio patrimonio, la mia ricchezza, da sola mi produca altro reddito, io sono tassata meno della metà. Allora, in un discorso sul lavoro povero, che comunque è tassato molto, allora introdurrei l'idea della ricchezza e di come la ricchezza contribuisce a riprodurre la diseguaglianza è un tema importante. E su questo io apro una parentesi, perché quando parlo di ricchezza tutti dicono, vabbè, ma la casa di proprietà, gli italiani sono casa di proprietà. E qui mi aggancio alla giusta precisazione che ci faceva il nostro ospite di ricchezza privata. Quando parliamo di ricchezza privata parliamo della ricchezza delle famiglie. ma attenzione, è vero che gli italiani sono un popolo di proprietari di casa, come anche molti altri paesi, anche in molti altri paesi europei, con l'eccezione della Germania e dell'Austria e della Svizzera. Germania, Austria e Svizzera non hanno un'ampia diffusione della proprietà della casa. Tutti gli altri paesi europei hanno percentuali simili a quelli dell'Italia, nei paesi dell'est Europa addirittura molto più alti. In Romania sono tutti proprietari di casa, novanta per cento. Quindi è vero che noi abbiamo tre famiglie su quattro che vivono una casa di proprietà, ma solo circa il sedici per cento ha più di un immobile. Quando parliamo di ricchezza che genera ricchezza, non stiamo parlando della famiglia che vive nella propria casa. Stiamo parlando di una famiglia che ha più di un immobile e tante volte ha un immobile che non è la casetta in campagna per il weekend, è un immobile solitamente in una località turistica che si affitta sulle piattaforme, in una località, una grande metropoli che si affitta a studenti e in altri canali. Quindi questa ricchezza privata che genera altra ricchezza non è tanto la casa di proprietà di cui io poi non pago un affitto nel mercato del lavoro, che pure ha un valore, che pure ha un valore evidentemente perché sono forme di risparmio, ma stiamo parlando di un altro livello di ricchezza. Allora, quando noi parliamo della ricchezza dobbiamo definire che nella narrazione pubblica abbiamo i poveri che sono responsabili della loro condizione e i ricchi che sono onorevoli. Noi abbiamo l'idea che la ricchezza sia frutto del benessere e di attività buone che hanno come dire attaccato un valore morale e i poveri... Del merito. Del merito, grazie. Esatto, i poveri al contrario invece non ce l'hanno, non ce l'hanno questo. E quindi su questo secondo me, come dire, dobbiamo un po' metterla in discussione, dobbiamo un po' metterla in discussione questa narrazione. Molte volte i poveri lavorano, sono lavoratori poveri, quindi tanto colpevoli non sono. Pensate a tutto il dibattito sul reddito di cittadinanza, le norme antivivano, i fannulloni, quasi la metà dei percettori del reddito di cittadinanza sono lavoratori. Dall'altro canto i ricchi onorevoli molte volte hanno semplicemente ereditato la propria ricchezza. Vi vado in conclusione, salto i costi della disuguaglianza per dirvi che il costo di questi dati che vi ho mostrato e della narrazione pubblica ha dei costi per tutti noi, non solo per le persone povere e dei benefici per le persone ricche, al contrario dei costi per tutti. Ve li salto, poi magari vi lascio le slide per chi vuole approfondirle, con anche la teoria dello sgocciolamento che è la teoria che io ovviamente critico insieme a mille altri studiosi che ormai la ritengono superata, anche gli economisti neoliberali la ritengono superata questa teoria. Ma in realtà vi passo, quindi le conseguenze di questa situazione sono drammatiche per tutti e quindi la mia domanda e qui su questa slide concluderei è che cosa facciamo? Quindi dato questo scenario è diffuso il lavoro povero, la ricchezza è poco tassata, genera altra ricchezza, produce disuguaglianze che ha dei costi, vi dico in due parole, molto elevati per tutti. Un dato, un dato perché è recentissimo, l'astensionismo alle ultime lezioni. La disuguaglianza crea un clima di sfiducia, sfiducia verso le istituzioni e sfiducia tra le persone. Io tendo a non riconoscere gli altri come miei simili, come persone degne di fiducia e quindi tenderò a distaccarmi. Vivo in una situazione dove c'è meno coesione sociale e questo crea malessere per tutti evidentemente. Per ridurre la disuguaglianza, anche riducendo il lavoro povero, possiamo fare interventi ex ante o ex post. La disuguaglianza come distribuzione dei redditi può essere controllata prima che i redditi si distribuiscano, come aumentando i salari minimi, do di più a delle persone, ma anche mettendo un tetto ai salari massimi, ad esempio gli stipendi dei top manager, sappiamo che arrivano a essere 400 volte lo stipendio di un impiegato, mettiamo un tetto. Interventi ex ante. L'altro canale è quello degli interventi ex post. Interventi ex post come la tassazione. La tassazione dei patrimoni, delle redditi e delle donazioni è un canale di contenimento delle disuguaglianze. Che cosa significa? Prendere i ricchi per dare ai poveri. La ridistribuzione funziona così. Come do ai poveri? Con il reddito di cittadinanza, sì, ma anche tramite i servizi di welfare. Un servizio sanitario nazionale capillare funzionante che non richiede ticket. Questi sono un'istruzione, di nuovo, che non richiede contributi all'iscrizione con una mensa gratuita. Questi sono canali di ridistribuzione. Tassiamo i patrimoni per ridurre la disuguaglianza. Eh sì, ma non solo, eh. Non è questa l'unica cosa. Ci sono diversi vantaggi per tutti nella tassazione dei patrimoni. Il primo è qui, ricchezza privata ci sta benissimo. Io faccio circolare questa ricchezza privata. La faccio circolare in due modi. Uno, perché fa parte del gettito pubblico. Io tassando aumento il mio gettito pubblico. Due, perché se io, donatore potenziale di un'eredità, so che sarò tassato, ma io la faccio circolare. Tenderò a risparmiare meno. Non risparmierò così tanto se so che solo una parte più contenuta, non il 4% sopra il milione di euro, ma magari il 50% sopra i 500 mila euro, viene tassato. Tenderò a spendere di più e quindi a far circolare l'economia. Ma non solo. Darò maggiore valore al lavoro, perché evidentemente il lavoro è più un canale di benessere. E non solo. L'ultima cosa è che in questa situazione avrò una situazione di riduzione delle disuguaglianze nei trasferimenti che avrò diretti. Non solo nella ridistribuzione, ma anche nell'accumulo. Quindi nei due canali insieme. Questo ha dei benefici per tutti. Su questo mi chiuderei la prima, come dire, mi fermerei qua e poi se ci sono domande ben volentieri discutiamone e parliamone. Grazie, Marianna. Splendida lezione di grande chiarezza e capacità comunicativa. Io sono molto contento. Allora, mi pare che ci sia molto materiale di discussione, nonostante la relazione sia stata veramente esaustiva a dispetto della complessità e dell'ampiezza, diciamo, dei temi affrontati. Chi vuole intervenire, alzi la mano, come si dice. Oppure lo comunichi, lo comunichi di orale. Posso dire qualcosa? Buonasera, sono Romana Mancini. Buonasera. Io ringrazio la relatrice di questa esposizione, è estremamente interessante. Posso chiederle di accendere la telecamera? Sì, accendo subito, un momento. Allora, però volevo sottolineare un aspetto. Ci sono alcune imposte che secondo me potrebbero veramente contribuire alla ridistribuzione della ricchezza. Una in particolare è la web tax, che è quella tassa che pagano le grandi società, big companies, che hanno, ad esempio, che hanno investito nel web. E questa tassa è stata al centro di molte discussioni ed è, anche se è stata poi aumentata, di fatto, colpisce un reddito incredibile, perché ricordiamo che gli americani hanno dovuto inventare un'unità di misura di questi redditi, perché non sapevano come calcolarla, questi Amazon, Google, eccetera, quelle cinque società il cui fatturato è equivalente al PIL della Francia, che invece poi in realtà in Europa pagano una web tax che equivale al 5% del reddito, quindi un'inezia rispetto al loro fatturato. Ecco, io penso che sia importante cominciare a capire e a cambiare alcune regole del diritto societario. Questo è fondamentale per lo sviluppo proprio del nostro paese e del nostro continente. Ad esempio, si continua a mantenere quest'idea della segretezza dei soci. Ma questa è una cosa che già era inaccettabile nel 600 quando è nata, ma oggi è assolutamente anacronistica, perché dietro i soci delle società non ci sono solamente piccoli risparmiatori che spesso vengono invogliati ad investire nazioni che poi si rivelano purtroppo poco redditizie o perfino vengono rovinati. E sappiamo tutti le note vicende di tante società, no? Parmalat, eccetera. Questi fondi di investimento che invece poi si sono rivelati delle grandi truffe praticamente. L'hanno proposto anche a me, tra l'altro. Non si capiva bene qual era l'investimento che avrebbero fatto e io ho temuto che direi no, ma sono abbastanza sicuri, sì, ma in quale settore? Non si capisce. Cioè, poi ho scoperto leggendo sui giornali che alcune volte addirittura investono in armi. Non dimentichiamo che l'Italia è un grande prestato ed è un grande produttore di armi. Quindi, insomma, stiamo attenti quando investiamo i nostri risparmi, ecco questo intendevo dire, formiamoci bene. Però bisogna cambiare proprio queste regole, no? Perché, ecco, io lavoro all'Istat, adesso stanno privatizzando il settore informatico, indagando, perché ad un certo punto si arriva a fare un po' di giornalismo investigativo. Abbiamo scoperto che questa società, dietro questa società, gli azionisti sono olandesi, americani, inglesi e tedeschi. Cioè, è un po' strano che proprio eh alcuni eh insomma i tedeschi con questo in quello che è successo in Europa settant'anni fa vogliano intervenire proprio sul settore informatico di un ente così particolare come l'Istat che detiene, come sappiamo, tutti i dati sensibili, giudiziari, economici di tutto il paese e questo è poi tra l'altro questi dati dovrebbero andare sul cloud, quindi facilmente accessibili da quiunque, dovunque, in qualunque parte del mondo. Cioè, scattano meccanismi se non provvediamo ehm con una certa urgenza a cambiare le regole del diritto, alcune regole del diritto commerciale che poi potrebbero avere un effetto molto negativo proprio sul sistema democratico. Quindi io mh insomma ecco mh volevo dire questo e poi sottolineare anche un altro aspetto. Non si tratta soltanto di colpire, in Francia hanno fatto la patrimoniale tanti anni fa, ma quali sono stati i benefici? Cioè, non è colpendo quelle persone ricchissime che risolviamo il problema del paese. Qui c'è una un problema molto serio di mh eccessiva distanza tra i i i livelli iniziali e i vertici delle amministrazioni, delle società private, eh anche negli studi per esempio professionali, tra i lavoratori autonomi. Cioè, si è diffusa dovunque. Questa mentalità per cui ci deve essere una persona, una sola o comunque un piccolissimo entourage che guadagni cifre mostruose perché pensiamo i consiglieri regionali mi hanno detto della Sicilia mi hanno detto no adesso gliel'hanno abbassato. Guadagnavano 600 mila euro l'anno, più di Obama, lo sappiamo tutti. Cioè, e e questa mentalità si è diffusa dovunque, in tutta Italia e tutti sono convinti che diventeremo tutti piccoli berlusconi. Cioè, non è così che funziona il mondo, non può funzionare così. Io ricordo a tutti le parole di Olivetti che diceva che tra l'ultimo assunto e il il datore di proprietà, l'imprenditore, non ci dovevano essere più di dieci stipendi di differenza, quindi già se era posto un limite, no? Ed è questo il modello, secondo me, che dobbiamo esportare nel resto del mondo. Se le multinazionali fanno di tutto, noi con la nostra struttura economica basata sulle piccole e medie imprese possiamo dare invece un modello non di competizione sfrenata perché poi questo accaduta, diciamo, modifica completamente anche l'organizzazione del lavoro perché alla fine no non conta più ehm essere solidali ehm diciamo insegnare agli altri il proprio mestiere. Ognuno diventa estremamente geloso di quello che ha studiato, di quello che ha pensato, di quello che ha realizzato e questa è la distruzione della società secondo me. Ho finito. Grazie Romana anche per queste informazioni eh riguardante la situazione dell'Istat su cui mi aveva tenuto informato Aldo Femia, un suo collega dirigente appunto dell'Istat. Allora, chi vuole intervenire? Grazie anche per diciamo le considerazioni di insieme. Abbiamo fatto alcune azioni di protesta molto forte, molto forte, molto forte, ieri e l'altro ieri. Posso magari dire una cosa su questo? Su questo? Prego sì, se no intervengo io. Prego, prego Marianna. Ma in realtà volevo dire sulla prima riflessione che non la vedo in antitesi, cioè la vedo come dire in aggiunta eventualmente, cioè nel senso che io non so nulla di questo, devo dire la verità, non mi ho ascoltato con grande interesse. L'unica considerazione che mi viene da fare è che mentre un'introduzione, io in realtà penso eventualmente anche una patrimoniale, ma qui penso proprio alla tassazione dell'eredità e delle donazioni. Poi ovviamente si può anche pensare di aumentare le rendite, i redditi da ricchezza eccetera, ma la patrimoniale come tassa di scopo io non l'ho pensata perché secondo me sono importanti interventi strutturali, quindi interventi che siano costanti, che ci siano sempre. Ma al di là di questo è facile perché il diritto è nazionale in questo caso, riguarda solo i nostri confini, mentre invece mi sembra che l'esempio di cui le ci parlava, che pure è enormemente rilevante, riguardi comunque una normativa internazionale perché noi sappiamo che, come dire, si spostano anche sulla base di convenienze fiscali, no? Quindi prendono sedi in paesi dove è più conveniente, quindi su questo credo che sia l'unica riflessione che sono in grado di fare. Sul ridurre le disuguaglianze, certo sono d'accordo con lei anche nella misura in cui non è solo, non è i super ricchi, ma è non solo i super ricchi, anche loro, perché le disuguaglianze passano anche da questo, cioè noi evitiamo che le cose si accumulino, ma anche chi le ha accumulate che un po' di più contribuisca, perché oggi veramente abbiamo invece studi di economisti rigorosi che ci mostrano che sostanzialmente le tassazioni sono più favorevoli per i ricchi che non per i poveri in termini relativi, evidentemente. Quindi su questo secondo me è proprio un'idea di cambiare un approccio che è molto complicato, come dire, e anche c'è molta resistenza e poi c'è anche soprattutto, a mio avviso, un'idea del no, ma non c'è la classe media, no, la classe media che ha accumulato la casa non tocchiamo, questa è sempre un po' l'idea di no, ma i genitori che lasciano la casa che, come dire, hanno comprato con grande fatica, ma no, non è così, cioè, come dire, quando uno dice, no, ma io ho la seconda casa, se hai la seconda casa sei in una fetta privilegiata della popolazione, perché come vi dicevo prima, è, come dire, una famiglia su sette e ci sono una famiglia su quattro che vive in affitto, quindi, come dire, non è la classe media che stiamo mettendo eventualmente a repentaglio in una ridistribuzione, al contrario, la classe media ne godrebbe molto di una ridistribuzione, perché avrebbe tutti quei servizi che oggi paga probabilmente più efficienti e anche più accessibili. Bene, se non c'è nessuno, interverrei io. Prego, Piero. Non c'è nessuno. Allora, intanto, no, approfitto del, diciamo, degli ultimi spunti della discussione per ricordare un aspetto importante del sistema fiscale italiano, e cioè l'enorme evasione fiscale. Allora, io, diciamo, facendomi forte dell'esperienza di un espertissimo tributarista, un professore di scienze delle finanze dell'Università di Bari, Ernesto Longobardi, vi dico che dal punto di vista tecnico è assolutamente possibile scovare gli evasori fiscali e farli pagare. Ma l'altra sera, a otto e mezzo, niente meno che Carlo De Benedetti diceva della possibilità tecnica di ridurre enormemente l'evasione fiscale attraverso l'incrocio dei dati disponibili dall'Istat, diciamo, il sistema medico nazionale, l'Inps e così via. Quindi lì abbiamo una grande fonte. Naturalmente sono d'accordo, ma questo farebbe parte, diciamo, delle riforme strutturali del sistema fiscale di cui parlava Marianna Filandri. Io aggiungo o riprendo, se volete, quanto diceva la nostra relatrice a proposito di quanto può fare lo Stato per ridurre la disuguaglianza attraverso quello che un tempo si chiamava salario differito, e cioè sono i servizi del welfare. Pensate, per ciò che riguarda la mobilità sociale, il contributo che lo Stato potrebbe dare ai giovani capaci incrementando le somme del presalario. Noi spendiamo, per ciò che riguarda le spese di, diciamo, borse di studio per dare la possibilità alle famiglie non abbiente di inviare i figli capaci, bravi, dotati alle università. Abbiamo la dotazione inferiore perfino rispetto alla Spagna, per non parlare della Germania naturalmente e della Francia. E questo è un deficit grave, noi non possiamo permettercelo, perché avere più laureate significa avere poi in futuro non solo una qualità culturale maggiore dell'intero paese, ma anche sotto il profilo economico avere un'economia più avanzata. Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare. Allora, il lavoro povero, soprattutto quello che nasce da scelte politiche governative di rendere flessibile il lavoro, quindi di rendere precario, ha prodotto danni enorme all'insieme dell'economia italiana. E sapete perché? Perché quando l'imprenditore riesce a risparmiare sui costi produttivi facendo leva sul lavoro, cioè riuscendo, diciamo, a ridurre i propri costi perché il lavoro è debole, è diciamo precario, chiede meno in termini di salario e in termini diciamo di qualità stessa del lavoro, allora l'imprenditore si adagia su diciamo il suo standard produttivo e non cerca di competere nel mercato globale cambiando diciamo modalità produttiva, innovando tecnologicamente, innovando nella natura del prodotto e così via. No, resta fermo ed è quello che è capitato alla nostra industria, a grande parte della nostra industria che diciamo spinta dalla facilità di usare quell'aspetto fondamentale della vita produttiva di un'impresa che è il lavoro, di utilizzarla a basso costo, ha ridotto la capacità competitiva delle stesse imprese. È un danno enorme a cui si fa poco caso, quindi qualificare il lavoro ma anche dargli più forza, più capacità contrattuale, più valore diciamo nelle imprese cosa significa spingere l'impresa medesima a muoversi verso la qualità e non verso il super sfruttamento dei propri, della propria maestranza. Comunque, aspettiamo, vediamo se interviene qualche di un altro Romana per forza. Posso concludere? Prego Romana, mi pare che nonno. Solamente questo volevo dire, non so chi sia questo docente, ma in realtà i fini istituzionali dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISTAT sono completamente diversi. Quindi questa New Company, come la chiamano, è uno strumento proprio non utilizzabile dall'Istituto. Noi abbiamo da tanti anni una fortissima sinergia fra il settore informatico e il settore statistico. Lavorano da sempre, da quando io sono entrata quarant'anni fa insieme, perché gli statistici definiscono la metodologia e poi l'applicazione pratica di quelle ricerche, diciamo, viene attuata dall'informatica. Non si capisce perché dovremmo rinunciare ad un aspetto essenziale del funzionamento dell'Istituto. In favore poi di che cosa? Perché se loro volevano utilizzare in un certo... Chiedo scusa, Romano, però questo non è un tema della lezione. No, certo, non è un tema vostro, però è un tema molto delicato, insomma. Ecco, volevo sottolineare questo aspetto. Sono tre cose, tre enti molto distinti. Sì, sì. Dobbiamo dare la possibilità alla prelatrice di rispondere e di concludere la lezione. Sì, grazie molte. In realtà, questo tema dell'evasione, il primo commento che è stato fatto è un tema molto rilevante, perché è anche sempre un po' utilizzato come scusa, no? Quindi non aumentiamo la tassazione, perché il nostro vero obiettivo è prendere gli evasori. Su questo, come dire, mi sembra che siamo, come dire, d'accordo che serve una volontà politica molto forte, perché, visto che è stato citato prima, un sistema informatico capillare di tutto quello che facciamo, forse, appunto, non mi stupisce la considerazione che veniva riportata del fiscalista. Vabbè, sul lavoro precario non ho alcun commento, se non che sono veramente molto d'accordo, perché le conseguenze per tutta la società, per il fatto che non abbiamo natalità, insomma, sono molto, molto evidenti a tutti. Vorrei dire una cosa sulla diffusione dei laureati e sul fatto che abbiamo, come dire, perso un patrimonio. In dieci anni in Italia sono emigrati all'estero quasi novecentomila giovani, quindi quasi un milione di giovani, di cui più di un quarto laureati. Ma questo perché? E noi quindi abbiamo un'immigrazione che arriva, che ormai non compensa più l'emigrazione, quindi abbiamo meno immigrati degli emigrati, quindi con un problema enorme di, appunto, saldo demografico. Ma questo perché? Perché il nostro mercato del lavoro, a differenza dei dati OXE, non offre posizioni di lavoro qualificate. Quindi il nostro mercato del lavoro offre più lavoro non qualificato e quindi i laureati nel nostro paese molto spesso emigrano, non tanto perché sono tutti esterofili, ma perché ci sono poche offerte di lavoro. Infatti uno dei dati che ci caratterizza è anche un grande livello di sovrestruzione, cioè laureati che fanno un lavoro da diplomati, diplomati che fanno un lavoro per cui basterebbe la licenza media. E su questo dico, ultimo dato, mi collego sulla suggestione fatta da Piero Bevilacqua prima di me, che è il fatto che il nostro tessuto, ed è anche venuto fuori prima nel commento di Romana Mancini, che il nostro tessuto economico è fatto prevalentemente da piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese fanno molta fatica, sono come dire, fanno molta fatica a innovare perché hanno ovviamente dei costi poco sostenibili. D'altro canto però hanno anche dei costi molto elevati per quanto riguarda il turnover. Quindi è molto difficile che siano le piccole e le medie imprese che competano sul mercato con i bassi salari. Perché? Perché quando ci si inserisce in un'impresa, si conosce l'impresa, si è formati a quell'impresa, i costi di cambiamento del personale sono molto elevati. Su questo alcune strade di innovazione hanno state proposte, penso a Trigiglia che aveva proposto, come dire, l'idea di mettere insieme, di fare dei poli per investire in innovazione. Oggi le nostre imprese non investono in innovazione e sviluppo, questo è, come dire, è un dato. D'altro lato, le imprese che invece competono sul mercato per, come dire, una riduzione del costo della forza lavoro, sono invece le imprese medio-grandi. E su queste invece noi possiamo, come dire, quantomeno essere attenti alla diffusione del fenomeno, al riconoscimento del fenomeno. Perché è lì che molto spesso, come dire, si riducono i costi del lavoro. E con tutto quello che sono le conseguenze del caso, perché il turnover fa aumentare, di nuovo, non è un problema solo individuale o solo aziendale, fa aumentare molto gli infortuni, fa aumentare molto lo stress, fa aumentare, fa ridurre di nuove, fa aumentare gli infortuni e fa ridurre i consumi. Sono tutti i costi che poi ricadono su tutta la collettività. E su questo penso che, come dire, spero che sia il messaggio che mi sta più a cuore. Non è un problema dei poveri che siano poveri, dei lavoratori poveri che siano lavoratori poveri e delle disuguaglianze perché alcuni hanno meno degli altri. È un problema che riguarda tutti, è un problema collettivo e lo è in termini razionali, non di etica, ecco. Brava Marianna, sì, proprio così. Non è solo un problema di giustizia, è anche un problema, come dire, di equilibrio della società nel suo complesso, di benessere collettivo. Grazie. Allora ci possiamo lasciare qui. Posso darvi, speriamo di rivederci, Marianna. Grazie a voi. Posso anche inserire un altro tema, ma non vorrei allungare troppo, diciamo, la durata della lezione. Volevo chiederle se lei aveva fatto parte di quella ricerca, diciamo, cappeggiata da Guido Ortona, in cui c'era Filippo Barbera, l'amico Filippo Barbera, Francesco, ecco, su un milione di posti di lavoro nella pubblica amministrazione, che secondo me è una grande idea. Vuole dirci qualche cosa, ripetere, ecco, perché lei lo farebbe meglio di me. Io ho fatto la campagna elettorale su questa cosa, perché mi sembra un'idea bella, ben pensata e soprattutto praticabile. È praticabile, grazie. È un'idea praticabile, è un'idea ottima per varie ragioni. Davvero sono tante le esternalità. Innanzitutto noi non dobbiamo pensare allo Stato o all'ente pubblico come la sacca di disoccupazione di una parte di popolazione svantaggiata, come recuperiamo, diamo da lavorare alle mamme che se non fanno le mamme vengono a lavorare all'ente pubblico. Però, no, non è questo. I dipendenti pubblici fanno un grandissimo lavoro, molto importante. Noi abbiamo ancora attaccato un po' questo stigma. Ce l'abbiamo del dipendente pubblico Fannullone. Abbiamo avuto un ex ministro che ha fatto dichiarazioni pubbliche ripetute, come dire, non devo ricordarvele, in cui mettiamo i tornelli, in cui lo smart working ai dipendenti pubblici mai. Quindi c'è questa, come dire, ancora narrazione del, come dire, il sussidio che passa tramite un posto di lavoro fisso nel pubblico. No. Gli enti pubblici erogano un servizio che è un bene pubblico e quindi come tale non può fare profitto. Lavorare in un ospedale pubblico, lavorare in una scuola, lavorare in un comune, in una regione, pensate a qualsiasi servizio pubblico, si fornisce un servizio fondamentale. Questi enti per funzionare hanno bisogno di personale, deve esserci personale e il personale deve esserci, deve essere assunto. Noi abbiamo questa follia dei dipendenti pubblici a tempo determinato, ok? Qualsiasi impresa privata non potrebbe trattare i dipendenti come fa lo Stato. Pensate agli insegnanti. Voi avete mai visto un'impresa che riesce regolarmente a prendere un datore di lavoro e tenerlo precario per dodici anni, come succede agli insegnanti? Questa è una cosa bizzarra. Diamo stabilità, diamo stabilità ai lavoratori. E cosa gli diamo oltre alla stabilità ai lavoratori? Quindi facciamo funzionare molto bene l'apparato pubblico da un lato. Dall'altro lato, questi lavoratori che noi assumiamo e voi dite, vabbè, ma sono dei costi molto grandi per le casse dello Stato e sono lavoratori che contribuiscono all'economia, che si ammalano meno, che pagano le tasse, che consumano, che utilizzano a loro volta i servizi. Sono, come dire, creano un benessere, ringiovaniscono l'amministrazione pubblica che ormai sappiamo che tende a essere composta prevalentemente da lavoratori più anziani e molte volte con qualifiche, con livelli di istruzione più bassi rispetto a quelli che potrebbe essere un nuovo ingresso. Quindi su questo io credo che sia una proposta ottima, ottima anche proprio nel cambiare la prospettiva in cui vediamo il nostro apparato pubblico. Deve essere, come dire, non sono riuscito a fare carriera nel mercato privato, mi rivolgo al pubblico. Al contrario, io dico sempre, è un vanto essere dipendenti pubblici, come dire. Dobbiamo essere, come dire, ambire a questo posto perché è un servizio pubblico, ha una certa rilevanza sociale e si contribuisce al funzionamento della macchina organizzativa. Quindi io devo dire che sono molto a favore, quindi è una visione anche forse più forte di quella che si aspettava, non lo so, ma questa è la mia idea, ecco. All'ultimo concorso dell'Istat, Sesto Cter, hanno partecipato 14.000 persone. Questa è la situazione in Italia, per un centinaio di posti. Grazie. Allora, sì, prima di dare la parola, vuoi parlare tu, Roberto? No, 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 era solo per ricordarti di darci l'appuntamento al prossimo. Intanto ringrazio anch'io la professoressa Chilandri, perché è stata veramente molto interessante per dirla. E chiaramente se ci puoi mandare le slide, poi le mettiamo a disposizione anche di chi vuole usarle per buon fine. Allora, noi ci rivediamo martedì 7 marzo per la lezione di Tommaso Montanari sul tema la gentrificazione delle città e la marcificazione dei beni culturali in Italia. Grazie a Roberto, grazie ancora a Marianna Filandri, a cui auguriamo buon lavoro e arrivederci martedì prossimo. Buonasera. Buona serata. Buonasera. Grazie. Grazie.